Se tutte le cose devono andare come previsto, potremo veramente avere una struttura prima dei 900 giorni previsti. La speranza e la volontà è che la nuova pediatria di Padova sia pronta in due anni. Domani, con la consegna ufficiale del cantiere all'impresa che eseguirà i lavori, si parte con la fase finale di un progetto atteso da decenni. Dalle ceneri della vecchia palazzina della pneumologia si ergerà un moderno e tecnologico edificio di otto piani che ospiterà 168 posti letto e tutti i reparti di avanguardia nella cura dei bambini. Un'opera da oltre 61 milioni di euro finanziati dalla Regione Veneto, i cui lavori sono stati aggiudicati dal Consorzio di Imprese guidate da Settengenesio. Le fasi di realizzazione saranno due, la prima degli scavi e poi la costruzione. Noi abbiamo spezzato la realizzazione di quest'opera in due grandissime fasi. Una fase che è l'analisi archeologica di quello che eventualmente può essere presente nel sottosuolo con degli scavi archeologici che dureranno circa quattro mesi, dopo la realizzazione dell'opera integrale che è un tradizionale, la realizzazione da partire dalle fondazioni del manufatto. Queste due fasi qua si concluderanno in due mesi e mezzo di lavoro complessivamente a partire da domani che faremo la consegna. La nuova pediatria rappresenta la prima grande opera che ridisegnerà l'area dell'ospedale Giustinianeo che sarà il secondo polo a Padova insieme al nuovo ospedale di Padova Est. Anche per quest'opera sono attese infatti importanti novità. Entro fine aprile dovrebbero essere affidati i lavori per la fase di progettazione tecnico-economica del nuovo polo ospedaliero.